Ciao a tutte ragazze, bentornate! Il video di oggi sarà un video in collaborazione con il sito Bonpretty Store. È un sito che vende sia prodotti da nail art principalmente, ma anche prodotti per il make-up. I prodotti che vi farò vedere che ci inserò saranno questi 12 colori acrilici da 9ml. Si tratta di colori acrilici che io principalmente non ho mai utilizzato, però ci proverò, quindi farò qualche nail art per vedere un pochettino come sono fatti e come si possono utilizzare. Sono dei colori, come dicevo, da 9ml con un semplice tubicino che si apre. E all'interno del pacco che ho ricevuto ci vanno anche questi piccoli contenitori dove mettere i colori o per immischiarli e fare delle sfumature. Ho trovato anche all'interno del pacco due pennelli da nail art, questi qui, della Bonpretty Store. Ragazzi, vi metto in basso tutti i link che possono servirvi per acquistare da questo sito che è davvero molto economico, ha dei prodotti che con rapporto qualità-prezzo sono ottimi. Allora, faremo anche una nail art, quindi nei prossimi video. Spero che la review vi sia stata utile e al prossimo video. Ciao!